Il nostro mare a scuola e lo slogan promosso dall'assessorato alla pesca per sostenere il bando FEAMP misura 5.68, illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa in Regione Abruzzo e che prevede l'assegnazione di contributi per il consumo del pescato locale nelle mense delle scuole di infanzia e delle primarie pubbliche. È previsto un fondo complessivo di 300.000 euro a sostegno del bando che è riservato ai comuni abruzzesi che potranno dunque usufruire di un contributo massimo di 20.000 euro a progetto. L'obiettivo è quello di favorire l'approvvigionamento dei prodotti ittici delle marinerie locali. Il bando scade il primo di ottobre. Ogni comune potrà presentare una sola proposta progettuale relativa alle scuole di infanzia e primarie ricadenti nel proprio territorio. Un progetto di educazione alimentare che vuole sostenere con forza il miglio zero e quindi la filiera corta del mare per avvicinare il mondo della scuola al mondo della marineria regionale. I progetti dovranno prevedere una duplice azione. La sperimentazione della somministrazione del prodotto ittico locale cioè pesce azzurro, vongole, cozza e pesce povero opportunamente trasformato attraverso il servizio mensa e attività formative di educazione alimentare idonee a preparare e ad accompagnare gli alunni al consumo del prodotto ittico. In Abruzzo operano nel settore ittico circa 500 imprese per un fatturato annuo di 30 milioni di euro.